Musica Ad esempio hanno avuto parecchi problemi e quindi è diventato un po' un meccanismo adesso che fanno inizialmente i club di tracciatori prendono contatto con la polizia per avvisarli che fanno queste cose perché altrimenti in effetti troverà coesato e quindi sono conosciuti non è tantissimo però è più divertente nel senso che appunto l'ho fatto travestire l'ho fatto andare in capisci è più di profili psicologici Buongiorno Come no? Devo dire che è andato bene ha tirato molta attenzione è pazzesco allora mi sono detto non posso più riscriverlo in un altro tipo dovrei riscriverlo ma non ha senso Buongiorno 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 Buongiorno